Un tavolo tecnico per ascoltare tutte le parti e studiare insieme un crono programma di azione. A Pescara la macchina amministrativa è all'opera per arginare i danni del crollo dell'asse attrezzato su via Raiale, la condotta fognaria che ha liberato le acque nere sulla strada e sul fiume e il rischio di incolumità dei cittadini. Poco tempo per ripristinare la normalità e molto ancora per analizzare ogni dettaglio dell'accaduto. Il crono programma è che si è dato priorità alla riattivazione di una vecchia condotta dell'ACA per far defluire le acque reflue della città di Pescara verso il depuratore. Attività che è andata in onda tutta la giornata di ieri, questa notte. Già questa notte la condotta vecchia è stata ripristinata, anche se temporaneamente e parzialmente, per vedere un attimino quali effetti avrebbe avuto a questa nuova messa in pressione. Questa mattina è già in funzione, non a pieno regime, proprio per evitare che possano esserci conseguenze non più riparabili. Chiediamo che nel corso della giornata possa tornare in funzione a pieno regime e quindi riportare tutte le acque reflue della città di Pescara verso il depuratore. Tempi celeri quelli del primo intervento, ma poi, spiega il vice sindaco di Pescara, sarà importante capire le cause. Qualcuno dice che da oltre un mese fosse visibile una crepa di 100 metri proprio sulla zona franata. Segnalazioni rimaste inascoltate. Credo che spetti all'ANAS, non so di questa situazione. Infine la preoccupazione dell'inquinamento sul fiume per lo sversamento delle acque nere. Un danno all'immagine della città e anche all'ambiente. Per ora si cerca di limitare i danni. L'aspetto dello sversamento delle acque reflue al fiume è questo il problema, è questa l'emergenza che stiamo affrontando da subito. È una questione che non vogliamo sottovalutare, non vogliamo sottotacere sia alla luce del sole. Proprio per questo nella giornata di ieri, nella nottata della notte trascorsa, abbiamo lavorato incessantemente, gli uomini dell'ACA hanno lavorato incessantemente e ripeto, già è stata riattivata la vecchia condotta che adesso parzialmente è in funzione.